ben ritrovati ragazzi ben ritrovati sul mio canale siamo qui per parlare del post partita di lazio torino finita 0 a 0 che di fatti sancisce la salvezza matematica per il torino del simpaticone urbano cairo e al contempo stesso la retrocessione aritmetica del benevento da campano del quale sono e il benevento è l'unica squadra della campania che mi sta anche simpatica salenetana mi è indifferente poi quegli altri la non li nomino nemmeno e mi fermo qui mi dispiace tantissimo per il benevento purtroppo si salva però purtroppo siamo una squadra siamo una squadra di stronzi come dice anche qualcun altro su youtube lo dice giovanni nei suoi video seguo la sua scia siamo una squadra di stronzi perché siamo riusciti siamo riusciti a far vincere sabato un derby alla roma facendogli raggiungere una piccola consolazione stagionale a roma il derby a roma il derby è un obiettivo non porta trofee ma è un obiettivo e alla roma gli abbiamo fatto raggiungere un obiettivo e stasera facciamo salvare una delle squadre più scandalose degli ultimi anni squadra che nelle ultime due partite ha preso 11 gol non in cinque sei partite in due partite ha preso 11 gol e stasera non siamo stati in grado di segnare neanche sul rigore neanche con ciro immobile che ha rotto il cazzo che quest'anno ha sbagliato una marea di rigori avrebbe potuto farlo tirare a luisa aberto che aveva rabbia in corpo perché è stato nervoso per tutta la partita avrebbe buttato giù la porta il rigore non l'ha calciato nemmeno malissimo perché ha preso il palo e poi nemmeno la nemmeno la fortuna di riuscire a ribadirla bene in rete quella palla dispiace ripeto mi dispiace tantissimo per il benevento ma in questo video rischio di parlare più del benevento che della lazio perché tanto a noi cambiava poco la lazio la sua partita l'ha fatta ci abbiamo provato in tutti i modi a vincerla contro una squadra che veramente si è difesa allo stremo poi vabbè se vogliamo parlare dei problemi della lazio i problemi della lazio sono i soliti abbiamo un pezzo di legno là davanti che la palla non la butta dentro neanche con le mani un gioco che è tornato quello di delle prime giornate di campionato cioè la lazio sta finendo il campionato come l'ha iniziato in maniera molto macchinosa cioè difatti la stagione della lazio è finita con lazio genoa 4 a 3 c'è l'ultima partita ufficiosa della ufficiale sarà quella di domenica prossima contro il sassuolo ma l'ultima partita ufficiosa della lazio è stata difatti la vittoria contro il genoa poi si sono spenti i fari perché contro la fiorentina non hai giocato contro il parma pure hai hai depredato il povero parma a quel punto per la con la simpatia che ho per il parma sarei stato contento se avessimo addirittura perso e stasera hai fatto rinascere hai fatto raggiungere alla roma una piccola consolazione stasera difatti fai salvare una delle squadre più scandalose del campionato proprio del simpatico ne cairo che per quello che ci ha buttato addosso avrebbero dovuto mangiarsi le pallone stasera l'impegno però non è mancato poi vabbè ragazzi anche una direzione dell'arbitro pessima veramente c'è fabio a un certo punto non ci ha capito più una mazza c'è a un certo punto non sapeva non sapeva più che pesci pigliare era andato completamente nel pallone tu dici vabbè calcio di rigore te l'ha dato l'hai sbagliato sei una testa di cazzo sì 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 ma siamo d'accordo su questo ma c'era un primo rigore su proprio su quel numero 94 che ripeto ragazzi io non lo nomino è più forte di meno non ce la faccio una spinta di ansaldi molto più netta del fallo che avrebbe fatto immobile su un culù in occasione del gol annullato senza nemmeno andarlo a vedere al var e non ha dato caccio di rigore poi il contatto proprio nell'ultimo minuto nell'ultimo secondo in area di rigore con lo schiaffo proprio al pezzo di legno destra più di un dubbio destra più di un dubbio però era palese fin dall'inizio che avebbero che volevano far salvare il torino ci si è messo poi anche la sfortuna perché immobile di fatti ha fallito un calcio di rigore pesante ma non per il campionato della lazio per il campionato del torino ed eventualmente per quello del benevento ma anche alcuni episodi a luisa abberto per dire mezza parola all'arbitro subito ammonito diffidato salterà partita contro il sassuolo vabbè che contro il sassuolo andranno a giocare forse vedremo in campo armini raul moro e perché no il figlio di tare a questo punto perché perché mancheranno un bel po di giocatori a reggio emilia col sassuolo e mentre quelli del toro hanno fatto falle a ripetizione protestavano perdevano tempo cioè a occhio e croce non so nemmeno se e chi è stato ammonito del torino però vabbè di certo stasera la partita non è stata indirizzata dall'arbitro come purtroppo bisogna dire con tutto il dovuto rispetto il benevento solo ufficialmente retrocede stasera ma il benevento di fatti un girone di ritorno dove ha battuto solo la juventus dove non ha vinto nemmeno contro il crotone in superità numerica deve fare mia colpa sarebbe troppo poco appellarsi alla partita di stasera al fatto che contro il cagliari non ti hanno dato il calcio di rigore mi dispiace mi dispiace davvero ripeto perché anche se sono tifoso della lazio comunque sono napoletano vedere tre squadre della campagna il prossimo anno in serie a comunque non avrebbe fatto piacere sicuramente però sarebbe stato anche più comodo per me per andare a vedere due trasfette assicurate a benevento a salerno perché a san paolo è praticamente impossibile andare nel settore ospiti però mi dispiace tantissimo ragazzi dispiace tantissimo per il benevento però ripeto un giorno di ritorno dove hai fatto una sola vittoria a torino contro la juve e di fatti non hai battuto nemmeno un crotone in superità numerica purtroppo devi fare mia colpa perché se tu vincevi col crotone il toro stasera doveva cercare la vittoria per assicurarsi la salvezza aritmetica anche con un pareggio domenica era tutto da vedere insomma tra lazio e torino in questo video comunque ho passato più tempo a parlare di altri che della lazio perché ormai della lazio c'è ben poco da dire voglio soltanto dire una cosa io l'utente l'ho bloccato e ho sbagliato dopo il derby roma lazio si è permesso di fare delle discriminazioni nei confronti di diabolic e di sandri ti devi vergognare ti devi vergognare non hai un briciolo non hai un briciolo di dignità non hai un briciolo di umanità ha detto cose del tipo due parassiti in meno cose del genere c'è ragazzi una cosa bruttissima però ho sbagliato pure io perché gli ho cancellato il commento e l'ho bloccato ve lo volevo far vedere ve lo volevo far vedere a questo pezzo di merda bastardo figlio di puttana codardo e mi fermo qui che ha detto queste cose quando poi alla fine del derby roma lazio alla fine io ho fatto soltanto i complimenti alla roma non tratto poi continuano molti dislike ma sono di romanisti perché ce l'hanno a morte con me per il video su murigno però alla fine sti cazzi c'è e derby ho fatto soltanto complimenti alla roma e penso di averci messo la faccia nel dire che ho rosicato a bestia ho rosicato a bestia per il derby perso quando poi invece la maggior parte dei laziali vabbè dai era un amichevole amichevole un par di palle cioè voglio dire comunque c'è ragazzi una roba molto brutta ho sbagliato a cancellare il commento domenica parlando di sassuolo lazio vedrò di scovare il nome di questo infame così che tutti lo possano vedere detto questo vi invito ad iscrivervi al canale a lasciare un like perché tanto come dico sempre gratis e vi annuncio già da adesso che domenica vedrò diretta gol perché sarà sicuramente più stimolante tanto comunque la lazio andrà rimaneggiata a reggio emilia con sassuolo lazio ormai in vacanza dopo la partita con il genoma quindi è più giusto mettere diretta gol per vedere insomma questo punto resta da decidere soltanto chi deve andare in champions league ed eventualmente chi tra rome e sassuolo possa andare in conference league perciò ragazzi ci vediamo domenica sera per parlare di sassuolo lazio poi in qualche giorno dopo la partita farò un video e assumendo un po il bilancio della stagione della lazio ciao belli